Carnevale, festa popolare della tradizione cattolica legata al rito del mascheramento, allo scherzo, all'euforia collettiva. La maschera è lo strumento per guadagnare temporaneamente un'altra identità, per assumere un diverso ruolo sociale, per rovesciare le regole e i rapporti di gerarchia della vita quotidiana, e quel che avveniva già nelle feste saturnali di epoca romana. Per il 21 febbraio, martedì grasso, giorno che chiude il periodo di Carnevale, diversi eventi avranno luogo in città. Il coordinamento Parco Sociale Ventaglieri organizza la settima edizione di Carnevale a Montesanto, che culminerà in una festosa parata per le vie del centro. L'appuntamento per tutti è al Parco Ventaglieri alle ore 14, dove i bambini potranno mascherarsi e truccarsi per la sfilata, che partirà alle 15. Ad ogni fermata sarà eletto un Papa dei Pazzi, mentre in Piazza del Gesù Nuovo sarà allestita la battaglia per sconfiggere l'orribile Leviatano. Lo stesso giorno, alle 14.30, partirà da Largo San Marcellino la sfilata organizzata dal Comitato per il Centro Storico, ispirata alla Festa dei Folli Medievale, che incontrerà il corteo dei Ventaglieri alle 17.22 a Piazza Dante. In Villa Comunale, dalle 10 alle 17, si terranno iniziative per i bambini a partire dai tre anni, col progetto A Città e Pulle Cianella, che prevede letture e filastrocche sul Carnevale, spettacoli di burattini, laboratori di cucina per imparare a preparare le chiacchiere e naturalmente una sfilata in costume. Tra sabato e domenica il Carnevale è stato festeggiato anche in altri quartieri della città, con eventi a Scampia, a Forcella, a Città della Scienza. Il sindaco De Magistris ha emesso un'ordinanza a tutela della pubblica incolumità che fino al 26 febbraio vieta, fra le altre cose, la vendita e l'uso di bombolette spray imbrattanti o irritanti.